Sono sei gli indagati alla chiusura delle indagini dell'inchiesta sulla corrispondenza smarrita. Lo scorso giugno sono stati emessi provvedimenti cautelari interditivi di sospensioni dalle funzioni per quattro degli indagati. Si tratta di tre funzionari e un portalettere come disposto dal GIP su richiesta della Procura. La chiusura delle indagini riguarda invece Domenico Giacoppo, che all'epoca dei fatti era responsabile del monitoraggio qualità e vice direttore del centro postale di distribuzione di Via Olimpia. Carmela Perrone ha detto la consegna e la corrispondenza. Angela Cingari, direttrice del centro postale di Via Olimpia, Giuseppe Scarcella e Alfio Chiarenza, entrambi i capi squadra e quindi il portalettere Marco Ciraulo. Il reato ipotizzato dal titolare del fascicolo, il sostituto Antonio Carchietti, è interruzione di un ufficio o servizio pubblico in quanto gli indagati omettevano volontariamente il recapito di plichi postali e destinatari formalmente giustificando tale condotta mediante la compilazione del cosiddetto modello 24B. In parole povere veniva sostenuta l'impossibilità a rintracciare o reperire quanti avrebbero dovuto ricevere lettere, bollette o comunicazioni o corrispondenza di vario genere. Inoltre, Carchietti contesta loro che con condotte artificiose avrebbero provocato un ingiusto profitto consistente nell'indebito conseguimento dei premi economici di produzione e di incentivazione operativa in virtù del solo apparente smaltimento della corrispondenza. Dopo che l'ha picchiata con un bastone e ha ucciso davanti ai suoi occhi il suo gatto, ha denunciato anni di maltrattamenti e percosse. Con l'arresto del marito di 44 anni è finito l'incubo per una donna di 46 che abita a Fiume di Nisi. I carabinieri hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti e lo hanno portato in carcere. Le indagini dei militari hanno permesso di accertare che la donna era vittima da anni di continui insulti, maltrattamenti e minacce di morte. Quest'ultimi resi ancora più seri dall'uso in un coltello. A far decidere alla 46enne di raccontare quanto sobbiva è stato l'ultimo litigio quando l'uomo è arrivato addirittura a percuoterla con un bastone e uccidere di fronte ai suoi occhi un gatto domestico. Sono così scattate le indagini degli uomini dell'arma che, coordinati dall'ufficio della procura, hanno ricostruito il clima di terrore in cui la vittima è stata costretta a vivere ed ora sul 44enne grave la pesante accusa di maltrattamenti in famiglia per la quale è stato emesso il provvedimento cautelare. La fiducia riposta alla vittima nei confronti delle forze dell'ordine ha permesso un rapido intervento sotto tela scongiurando il rischio di conseguenze ancora più gravi.